Il sesto tratto distintivo delle cellule tumorali è la loro capacità di promuovere la migrazione e l'invasione dei tessuti formando le metastasi. Il processo che porta alla formazione delle metastasi, cioè di tumori a distanza, è molto complesso e comprende una serie di eventi in successione che vanno sotto il nome di cascata di invasione e metastasi. La cascata comprende diversi passaggi. Se prendiamo come esempio un tumore di tipo epiteliale, le cellule tumorali proliferano e iniziano a invadere localmente il tessuto penetrando attraverso la membrana basale. Il primo passaggio è dunque l'invasione locale. Dopo aver superato la membrana basale, le cellule tumorali arrivano ai vasi sanguigni e linfatici, attraversano la parete dei vasi ed entrano nel torrente circolatorio. Ad un certo punto le cellule tumorali escono dal flusso circolatorio riattraversando la parete dei vasi e penetrano nei tessuti di organi anche molto distanti dal tumore primario. Qui formano dei piccoli noduli in un processo chiamato microcolonizzazione. Le cellule tumorali iniziano a proliferare nel tessuto di arrivo. La colonizzazione vera e propria, quella che porta a masse metastatiche, avviene successivamente, quando il tumore attiva anche l'angiogenesi, cioè la creazione di nuovi vasi, che portando ossigeno e nutrimento permettono la formazione di una massa metastatica di dimensioni macroscopiche. Le cellule tumorali utilizzano diverse strategie per aumentare la propria motilità e la propria capacità di invasione. Per esempio, nel caso di tumori di origine epiteliare, una strategia consiste nell'attivazione del processo di transizione epiteliale mesenchimale, detto anche EMT. Le cellule perdono dapprima le giunzioni cellula-cellula, poi acquistano una forma più allungata, poligonale, che le agevola nel movimento e rilasciano enzimi litici che degradano la matrice extracellulare, creando spazio alla cellula e consentendone il movimento. Un'altra modalità di migrazione usata dalle cellule tumorali consiste nella cosiddetta invasione collettiva. Noduli di cellule cancerogene si spostano in massa nei tessuti adiacenti, come per esempio nei carcinomi a cellule squamose. Un'altra strategia consiste invece nel movimento ameboide. Le cellule tumorali sgusciano negli spazi della matrice extracellulare senza degradarla, come avviene invece nella migrazione EMT. Tutti questi sono esempi di alcune strategie che le cellule tumorali utilizzano per aumentare la propria motilità e la propria capacità di invadere i tessuti circostanti. Grazie. 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 Grazie.